Salve a tutti, e allora prendiamo questo discorso che è successo su un motore del 112 Abarth quindi l'amico mio Massimiliano mi ha fatto pervenire questo motore che è di un amico suo e hanno riscontrato un problema quindi mi è stato chiesto di fare un po' questa valutazione un po' perché è successo questo grippamento delle bielle lo andiamo a vedere io qui da un altro albero motore perché il suo è andato fuori uso e quindi quello che a volte uno non si fa chiarimento è come mai delle bielle comprate nuove con un discorso di qualità quindi bene o male uno cerca sempre di portare avanti i suoi prodotti a volte dire che sono di buona qualità perché hanno delle caratteristiche dove vengono effettuati diversi controlli e poi invece si va a vedere che ci sono dei problemi a volte di dimensionamenti che non sono stati controllati oppure non fatti bene e quindi colgo l'occasione anche questo qua per qualcuno di voi di stare un po' attento anche sui componenti nuovi perché anche su altri componenti qualcosa mi è successo e alcuni amici miei anche da diverse parti d'Italia hanno avuto proprio dei problemi e mi chiedevano se potevano succedere su delle bielle quindi io su qualcuna vado a fare delle modifiche anche il discorso di lubrificazione ma su questo è successo proprio un danno proprio dimensionale che è stato fatto male come lavorazione e di fatti a volte nemmeno accettano il discorso che uno lo va a presentare come chiarimento nel senso che fa capire che c'è qualcosa che non va però lo andiamo un po' a vedere ora perché io su queste cose così dettagliato oppure tecniche ne vado un po' ad averne competenza più di qualche altro vi dico che su queste cose minchiate non le vado a dire quindi questo lo andiamo a vedere ora perché vi faccio proprio portare sul difetto e vi andrò a dare dei chiarimenti come è successo e poi perché non si è capito bene anche quel ragazzo che l'ha montato non ha avuto percezione di quel problema nell'atto che montava il motore perché non ha capito bene quel difetto quindi io ve lo faccio vedere e poi vi faccio comprendere pure perché non è arrivato a questo problema e quindi quello che andrò a dire per chi mi conosce abbastanza lo capisce bene che non ne vado a dire fesserire se queste cose d'accordo e allora ecco qui i componenti del motore perlomeno una parte di qui va a mancare la biella perché si è deformata tutta e quindi verrà sostituita in questo caso è rimasto soltanto il pistone per fortuna non si è creato danno nel motore unica cosa che le BL come dire all'interno come dimensionamento sono leggermente più stretti quindi invece di essere alla misura stabilita da 43,67 a 43,65 siamo leggermente più stretti in alcune sono 3 centesimi in altre sono 4 addirittura forse 5 in quella che andava a mancare qualcuno potrà dire ma come mai quando si è montato perché questo ragazzo non ha fatto altro che andare a intervenire nel cambiamento delle pistone stampate in quelle che c'erano prima montate proprio per dare una robustezza al motore e i componenti di biella che onestamente sono fatti bene però l'unico controllo l'unica pecca sono una il dimensionamento che è stato fatto sbagliato quindi io lo sto dicendo per qualcuno di non essere mai sicuro ma controllarsi tutti i componenti che va un po' a cambiare altro piccolo problema che dovete stare attenti questo non tanto da causare alla biella ma quando si va a montare è un po' le asole del fermo delle bronzine perché per sollecitare o per diminuire diciamo i tempi di lavorazione vanno a creare soltanto dei due asole quindi si può montare sia un fermo delle bronzine destra o sinistra però che cosa succede se non si va a bloccare la bronzina a livello di posizionamento nell'asse di chiusura quindi se la bronzina nel momento di rotazione della biella del pistone si va leggermente a spostare quando poi si va a montare il cappellotto che cosa succede che invece le due bronzine di essere montate sull'asse di chiusura sono leggermente più girate questo che cosa fa ora io ve lo faccio vedere da vicino il nasello di bloccaggio di posizionamento sulla bronzina non fa altro che andare a sbattere sul sul dentello e si viene a creare qui all'interno un dimensionamento della bronzina più stretta quindi questo si deve fare pure attenzione nell'atto di montaggio poi a livello strutturale quindi voglio andare a fare vedere vediamo di poter girare un po' il posizionamento della... e allora qui c'è un alesametro messo già a misura che ho messo con la misura stabilita del dimensionamento della dell'alloggio della biella se andiamo a prenderne qualcuna e la andiamo a leggere in questo caso questa c'è quattrocentesimi vediamo di poter fare vedere leggermente più stretta e quindi è in qualsiasi posizione c'è questi quattrocentesimi di... leggermente più stretti e anche prendendo tutte le bielle sono in questo stato quindi se andiamo invece di essere sullo zero che sarebbe in questa posizione sono leggermente più strette se vedete io oscillo per poter trovare il punto più stretto sono quattrocentesimi andiamo a controllare tutte e tre e tutte e tre sono nello stesso tolleranza quindi quattrocentesimi più stretti allora stavo per dire qualcuno potrà dire come mai quando si è montato non si è riscontrato questo bloccaggio sull'albomotore proprio perché l'albomotore già montato sul monoblocco aveva delle corse dietro quindi già questo motore si era fatto girare a delle gare quindi che ha fatto tranquillamente senza nessun problema si è montato questi componenti per avere una sicurezza in più e quando si è montati questi motori chi li conosce bene sa che poi dopo un po' di gare si va a consumare leggermente l'alloggio dell'albomotore quindi quando si è andato a montare l'ebl questo ragazzo che l'ha montato onestamente ha controllato lo spallamento che era libero e nella rotazione anche l'albomotore era libero però che cosa succede che anche l'alloggio della bronzina va a deformare l'interno delle bronzine anche se c'era un po' di tolleranza perché questa tolleranza che abbiamo riscontrato è più stretta sulle bronzine l'abbiamo avuto anche come deformazione all'esterno che succede in un alloggio più stretto il bordo della bronzina si va un po' a deformare quindi non è più aderente alla biella ma crea delle microondulazioni all'interno in forma delle increspature e si va a distruggere un po' nella rotazione la lubrificazione di fatti in una diciamo poi appena è girato bene il motore e si è messo in gara per come è arrivato poi in temperatura si è creato questo problema specialmente questo problema come possessori del 112 lo hanno sempre nel secondo e terzo cilindro ora andiamo a vedere da vicino la bronzina proprio perché vi vado un po' a spiegare quello che è successo poi anche a livello di deformazione come andava a lavorare male l'albero motore e nello stesso tempo anche sul banco si vedono una parte lucida sulle bronzine ma non per mancanza di olio ma perché andava a faticare quindi non girava bene e creava un attrito come se il motore era sotto sforzo più del dovuto quindi questo lo andiamo a vedere da vicino sulle bronzine e allora andiamo a vedere un po' sulla bronzina che cosa volevo fare comprendere intanto qui sulla biella vedete il discorso dell'asola dove vanno a posizionare le bronzine quindi una volta che c'è un'asola più ampia la bronzina può leggermente girare come impostazione quindi non si mantiene sull'asse così ma può anche girare in questo caso o in questo caso ma soltanto al momento di montaggio perché poi una volta che poi viene bloccato il cappellotto la bronzina non si muove più può succedere che nella rotazione della biella può girare un po' la bronzina e va a lavorare male in questa posizione qui nel nasello si vede una parte più lucida vediamo se riesco più da vicino a fare un'inquadratura vedete sull'angolo del fermo si è creata una parte lucida proprio perché lì va ad avere una sezione leggermente più stretta come tolleranza e allora che cosa succede? che nella bronzina dall'impronta che va a lasciare come lavorazione vedete che la tolleranza c'è perché normalmente quando noi andiamo a montare un albero motore vedete che dopo un certo tempo di girare normalmente la bronzina va a lavorare come appoggio sull'albero motore da questo angolo a questo angolo di lavorazione se voi smontate una bronzina che è lavorato bene qui lo dovevo fare un po' più stretto comunque meno male da questa posizione quindi questo spazio qua della bronzina non va a lavorare sull'albero motore ma serve soltanto per poter avere un'incanalizzazione dell'olio quindi si va a formare quello strato di olio che fa da materiale da antiattrito tra la bronzina e l'albero motore in questo caso se andiamo come abbiamo visto dalla bronzina l'impronta l'abbiamo leggermente più bassa come per dire che la tolleranza rispetto tra l'albero motore e bronzina c'era soltanto che cosa succede che visto che la bronzina anche sull'alloggio di biella che è leggermente più stretta un po' si va a deformare man mano che il motore andava a surriscaldare da questa parte qua si andava a creare dell'ondurazione di questa parte del guscio della bronzina e quindi si andava a restringere la tolleranza e poi anche un'altra causa che poi possibilmente si è andato un po' a creare che è quel consumo che abbiamo sull'albero motore che è leggermente più stretto può creare perché quando c'è un cambiamento di sezione dell'albero motore invece di essere consumato uniforme ha delle parti leggermente più strette laterale rispetto alla parte superiore basta che c'è un massimo di due centesimi di ovalizzazione va a distruggere un pochettino le bronzine ma in questo caso sono tutte combinate in questo modo proprio perché il motore andava a girare sotto sforzo perché quei 4 centesimi che abbiamo ritrovato come alloggio più stretti riscaldando il motore andava a diminuire il trafilamento d'olio quindi quel sottile film di olio che abbiamo come lubrificante nello stesso tempo come creare lo strato di antiattrito delle bronzine veniva a mancare per questo poi si è arrivato ad avere una fusione della biella in questo caso vediamo anche le bronzine come si sono lucidate di banco proprio perché non è mancato olio è soltanto lucido proprio perché nella rotazione della biella del pistone creava un attrito di rotazione sull'albero quindi anche se le tolleranze erano leggermente ristrette ma va a frenare la rotazione di fatto il motore non aveva più quei giri man mano si riscaldava andava sempre leggermente a frenare come attrito quindi se le andiamo a vedere un po' tutti poi questi sono quelli centrali dove hanno subito di più l'attrito della rotazione dell'albero motore si sono rigate leggermente di più ma non sono grippati allora come in questo caso sulla biella voglio dire che non andiamo a fare a stabilire da chi sono state fatte non ci interessa più di tanto possono succedere delle lavorazioni fatte male un macchinario che si fa a guassare un componente quindi non rispetta bene le dimensioni però più che altro quello degli alloggi dovete andarlo a controllare sempre perché in questo caso lo spinotto andava bene però sull'alloggio della benzina andava male quindi o è stato fatto un errore di sovrascrittura di dimensionamento al macchinario oppure si è avuto qualche guasto ma in questo caso come dire quando uno va un po' a pubblicizzare i propri prodotti bisogna avere anche qualcosa di qualità che si deve andare a controllare più che altro perché non andare a insorgere in questi problemi